In città in questi giorni non si parla ad altro. Gatti, grande elettore, grazie al PD. Qual è il suo commento? I numeri danno questa lettura. Chiaro che noi come partito locale abbiamo già chiesto un chiarimento a livello regionale, con il partito regionale, soprattutto col gruppo regionale, perché delle scelte di alleanze indirette con Forza Italia non trovano giustificazione, soprattutto nell'ambito locale, dove noi facciamo un'acuta opposizione ad un programma di governo che non condividiamo e che è rappresentato proprio da una forza maggiore che è quella di Futuro In che fa riferimento a Paolo Gatti. Per cui alleanze con gruppi diversi rispetto al PD che sono rappresentate nel caso di Paolo Gatti da Forza Italia, ovviamente sono alleanze che non possono trovare giustificazione se non con scelte di riforme importanti per la collettività dove una condivisione, come si verifica anche a livello nazionale, potrebbe essere sostenibile. Ma in questo caso si tratta di un appoggio politico che forse non ha neanche una sua rilevanza sostanziale, perché non so se poi alla fine Paolo Gatti aveva i numeri per essere eletto senza gli restanti altri voti che si ritenga vengano dal gruppo del PD e comunque questo va chiarito a livello regionale. Si aspetta un chiarimento quindi, un commento su questo a livello regionale? Assolutamente chiarito i rapporti di forza e di rapporti con le minoranze, anche per una credibilità maggiore del lavoro che il PD fa nel territorio e soprattutto fa a Teramo.